Grazie a tutti Sì sicuramente Non c'è dubbio Va bene Flavia Allora tra un pochino saliamo sull'aereo Emanuele vaffanculo Potevi venire Ecco ci soppri io Ok A dopo Antò che dicevi a sta ragazza? Nulla, nulla Il video non verrà Gli hai detto di quanto Gli hai detto di quanto so bravo? Non era particolarmente Dommino Sai tanto se la canta e se la suona da solo Leggiamo Danger, Danger Che cos'è quel Danger? Oh la nulla Oh c'è una cosa scritta Danger dietro alla schiena Un casino Ma è tantissimo Ma è tantissimo Lo voglio fare Grazie a me Grazie a me Grazie a me Tranquilla Io quando ho fatto per tanto E mi c'è una cifra paura Ma tu guarda te Tranquillissimo Infatti io ho spiegato Le due cose tecniche Mi bisogno che ho sentito Una persona in città Sì Io ho trattato che cose Sì Ma crocco Lascia perdere Se ne frega moltamente Adesso rimaniamo Sì Io starei in questa notizia Ok Stiamo seduti su La pantina Se non è stata rubata Perché questi Si rubano tutti Rubano tutti Ok Adesso andiamo alla porta Sei una ragazza Che non c'è nessun tipo di problemi Perciò le gambe stanno in questo modo Un pochino a 45 gradi Verso il davanti che lei Verso il motore E ci sono le armi Perfetto Perciò E guardi L'ala dell'aereo In modo che ti aiuto A già tenere La testa alta Perché L'ala dell'aereo Eh Allora Senti ma Un saluto Non gli lo facciamo fa Un sorrisetto Arvidio Adesso Questa è la fase importante Dobbiamo proprio attorare Perché saremo attaccati Saremo iscritti Ecco perché Devo sto applicando Una volta che apri la porta È normale Cambia un po' No Penso che a un certo punto Mi verrà ancora E noi la riprenderemo E il bello sta proprio là Perché il passaggio d'occhi Nell'anzia Ci fa sentire in attimo Ricchi Un po' Strani Ci fa sentire qualcosa Che fino a poco prima Non avevamo messo Vabbè Anche come siamo noi Ciao Carabin' Carabin' No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.